Buonasera a tutti, ce l'abbiamo fatta, viva il registratore, grazie dell'attesa, della pazienza. Io rubo giusto due minuti per ringraziare tutto il carrozzone che abbiamo presente questa sera. Io sono Nicolò, parte di Made Program, coordinatore accademico, vorrei ringraziare innanzitutto Alessandro Montel, direttore, per averci dato la possibilità di organizzare questo talk all'interno dell'Accademia. Germano, assolutamente, perché questa avventura è iniziata tipo appena io sono arrivato l'anno scorso con Germano che mi ha detto, ma io avrei questo grande sogno di invitare Franco a venire a fare un talk, ho detto sì dal secondo zero e sono onorato di avere Franco ovviamente e Roberto Fai qui ospiti questa sera. Detto questo vi lascio e lascio la parola alla Germano, grazie e grazie a tutti i presenti ovviamente. Grazie, sì anch'io volevo unirmi ai ringraziamenti di Nicolò, ringrazio Alessandro, il Made, Nicolò, la libreria Zara, Tanna e Timeo che ci ha fornito i libri, l'ultimo libro di Franco disertare, Roberto Fai che modererà l'incontro e lo introdurrà e volevo dire solo due parole su il perché a un anno e mezzo che scrivo a Franco per cercare di invitarlo in Sicilia a parlare perché appunto per me ha un ruolo cruciale e il ruolo cruciale di Franco è un po' legato al motivo per cui abbiamo ritardato, cioè il fatto che la tecnologia ci ha tradito, cioè ci tradisce, è che in qualche modo l'interpretazione della realtà che Franco ha portato nella sua biblioteca, nelle sue opere ma soprattutto nell'ultima è molto importante per cercare di capire cosa sta succedendo, cosa sta succedendo in una realtà in cui la quantità infinita di input e di informazioni genera caos, cosa sta succedendo in una realtà in cui c'è una maggiore consapevolezza sulle cose che non può che portare a un senso di depressione e a una mancanza di fiducia nel futuro. Quindi queste due cose principalmente portano a una sensazione di incertezza verso il futuro e a una sensazione di depressione che soprattutto sui più giovani ed è il motivo per cui ho parlato subito con Made con un'accademia, una delle poche università all'accademia rimaste a Siracusa, perché il messaggio di Franco è fondamentale soprattutto per i giovani, è fondamentale per chiunque ma soprattutto per i giovani. L'ultimo libro di Franco, Disertare, in qualche modo cerca di aiutare a cambiare i paradigmi con cui abbiamo vissuto fino adesso, in qualche modo cercare di trovare in delle azioni che non hanno un ritorno immediato, azioni inutili tra virgolette, la base di creazione di nuovi legami tra di noi, nella gentilezza la base delle azioni su cui impostare dei nuovi paradigmi per vivere una realtà che in qualche modo ha tradito le attese, che quindi non ci ha portato sulla luna, non ha sconfitto le malattie che c'erano, ha semplicemente distrutto questa tecnologia e questa idea di futuro capitale e quindi in qualche modo il messaggio di Franco Disertare, che mi spiegherà sicuramente meglio lui, è un messaggio fondamentale per creare delle nuove prospettive e dei nuovi paradigmi. Quindi lascio la parola a Roberto che introdurrà le parole di Franco e a Franco che sono felicissimo di avere qui a Siracusa e grazie. Grazie, grazie, provo a recuperare così questi minuti e esordisco dal titolo che avete letto nella locandina, diciamo, cosa fare quando non c'è più niente da fare. Il titolo è allusivo, è evocativo, potentemente anche allegorico, no? In fondo abbiamo alle spalle il novecento che è stato il secolo che esordisce proprio nel millenovecentodue con il che fare di Lenin, no? Quindi capite un po' il rovesciamento di prospettiva complessiva. Nel secolo scorso l'azione e l'idea era quella specificamente di un'azione politica che ha scandito il novecento, il cui pendola ha oscillato tra riforme o rivoluzione, diciamo così. Ecco, interamente attraversato il secolo scorso dal motto la politica come destino, questa è un'espressione di Max Weber, oggi ci chiediamo qual è il destino della politica e quindi credo che il titolo si presti bene ma anche le riflessioni che poi ben presto adesso quando gli darò la parola farà anche Franco Berardi. Io faccio piccoli accenni sugli aspetti della sua biografia, la ricostruisco molto sinteticamente per venire poi ad alcune domande, due, essenzialmente legando due suoi saggi che sono dell'ultimo periodo, fenomenologia della fine che è proprio scritta come dire, come dire, proprio nel vivo del covid e disertate che è questa sorta di appello manifesto. E allora tocca a me presentarlo, poi che cose, diciamo così, se è stato una figura significativa di leader dell'antagonismo politico e di critica radicale nell'intensa e divisiva stagione che va dal 68 in poi. Ma non sei stato solo questo, ti sei laureato in estetica con Luciano Anceschi, nel vivo dell'impegno in potere operaio. Hai svolto e svolgi la tua produzione saggistica su vari registri culturali e tematici, in quella stagione conosci Toni Negri e hai frequentato a Parigi, nei tuoi tanti viaggi a Parigi, Felix Guattari e Michel Foucault, cioè in sostanza nel pullulare in quella stagione di una ibridazione tra filosofia politica e psicanalisi. Fondi la rivista Attraverso, l'emittente libera Radio Alice con le sue vicissitudini di questa esperienza. Nella stagione successiva del BN 80-90 viaggi molto, da New York al Messico, Cina, India, Nepal, sposti l'interesse verso lo scenario delle innovazioni nel mondo della produzione, delle nuove forme del lavoro, del cyberpunk e dell'immaginario tecnologico. Al centro il rapporto tra movimenti sociali e tecnologie comunicative. Cogli che il lavoro cognitivo si estende ma resta appunto subordinato alle logiche capitalistiche, cioè il general intellect, l'intelletto collettivo che è la dimensione del sapere che via via la scienza, i saperi e gli specialismi mettevano nella capacità produttiva ma che è stato, come già ci insegnava Marx nei Grunris o nel lavoro sulle macchine, all'interno della logica capitalistica. Rimani un protagonista della cultura critica del contemporaneo, un sismografo del nostro tempo a tratti visionario e profetico anche con proposte e suggestioni che hanno il timbro della provocazione culturale. I tuoi saggi sono istantanee sulla contraddizione del nostro presente. Suggerisci inedite modalità per aprire varchi significative per far luce sul fascio di ingiustizia del nostro tempo. Metti a nudo il neoliberalismo attuale quale forma estrema di dominio e la tua domanda dirimente radicale è come sottrarsi alla presa di questo neocapitalismo onnivoro che mentre risucchia per intero la soggettività nella sua logica sembra toccare il punto più alto di intensificazione negativa pencolando sull'abisso di un suo epilogo che non giunge mai. È riduttivo dire che il tuo sia stato solo un pensiero contro. Certo, il tratto controistituzionale è innegabile. Definisci il sistema capitalistico, e qui cito te, un'aggressione continua che si alimenta. Ogni frammento di vita è stato risucchiato dall'idrovora economicista. Tutto tende ad essere trasformato in deserto, la vita quotidiana, nel linguaggio e l'ambiente. In fenomenologia della fine cogli nel virus una sorta di fantasma allegorica e scrivi, da tempo l'economia mondiale ha concluso la sua parabola espansiva ma non riusciamo ad accettare l'idea della stagnazione come nuovo regime di lungo periodo. Ora il virus semiotico ci sta aiutando alla transizione verso l'immobilità, che è quella sorta di presentismo immobilizzante, diciamo così, cui alludeva Germano nella sua introduzione di saluto. E concludi con questa ricetta. Per la sopravvivenza degli umani non è necessaria la crescita infinita, è necessaria una distribuzione egualitaria di ciò che l'intelligenza tecnica e l'attività libera possono produrre. Una cultura della frugalità che non significa né povertà né rinuncia, ma spostamento dell'attenzione dalla sfera dell'accumulazione alla sfera del godimento. In disertate scrivi, disertare è la lotta che ci aspetta. Disertare il lavoro salariato, che tanto non serve più per sopravvivere, arricchendo solo la piccola minoranza. Disertare e alimentare comunità indipendenti che abbandonano il pianeta in fiamme, per dove a questo ci penseremo. Disertare la politica, arte inutile e incapace di comprendere e governare. Disertare la procreazione per non rovinare la vita di chi per sua fortuna non è ancora nato. E altrove. Nessuna rivoluzione potrà fermare la barbarie, perché la volontà umana ha perduto il comando sull'evoluzione. Quella che si prepara è un'oscillazione gigante del pendolo della storia, che porterà l'umanità fuori dalla storia del capitale. Ma non sarà la rivoluzione che renderà governabile il cataclisma oscillazione. Scappiamo, nascondiamoci. Non investiamo energia in una gara che abbiamo già perso tutti, mettiamoci al sicuro in comunità solidali e frugali. Potremmo dire che il tuo manifesto abbia un taglio più che politico di ritrazione dal politico. Una sorta di far esodo. L'unico atteggiamento da assumere, vista l'impotenza, l'insignificanza di ogni agire politico, in un mondo che accelera verso la catastrofe. Ora è indubbio che da tempo fenomeni di disersione sociale, politica, partecipativa, siano già in atto. Segnate dall'acuirsi di forme di chiusura in un privato claustrofobico di depressione sociale, di insegnificanza degli ambiti vitali e perdita di senso della sfera politica. Ecco, azzardo e ti chiedo, c'è sì un fil rouge nella tua lunga traiettoria di pensiero e di riflessione e di azione politica, ma al tempo stesso una parabola da quella iniziale prospettiva e stagione ultrapolitica ha oggi i tratti di un esito e di un esodo in politico. La prospettiva ultima del tuo approdo ha in sé ciò che sui registi diversi Giorgia Gamben ha declinato e delineato come una forma di destituzione, cioè una prassi destituente, come se non mi fosse più spazio per alcuna prassi istituente in cui e attraverso cui l'umano da sempre ha dato senso all'esistenza. Ecco, prendi queste come occasione delle menti di riflessioni e ti do la parola. Grazie. Intanto ringrazio voi di essere qui, Germano per avermi invitato, Roberto per avermi introdotto e poi inizio contraddicendomi e in qualche modo rispondendo in maniera paradossale alla domanda, provocazione, introduzione che abbiamo appena ascoltato. Ho passato parte del pomeriggio ascoltando la presentazione di una lista elettorale che si chiama Pace Terra Dignità. È la lista elettorale che presenta Michele Santoro, Raniero Lavalle, un certo numero di persone decenti, di persone degne, di persone che si battono con la politica contro la guerra che sta devastando l'Europa. Mentre li ascoltavo un po' anche mi vergognavo. Mi hanno proposto qualche tempo fa di partecipare a quella lista e ho risposto che per tante ragioni complicate non me la sentivo e però oggi ascoltandoli da una parte mi capivo e mi perdonavo, diciamo così, dall'altra mi rendevo conto del fatto che perfino le battaglie che conduciamo oltre il limite del credibile sono battaglie che occorre accettare se non altro per non vergognarsi. Ecco, e però mentre mi impegno, come vedete, comincio adesso a impegnarmi in una campagna paradossale a favore di una lista nella quale non posso credere a fondo eppure credo. Mentre faccio questo, mentre dico a me stesso vorrei che Michele Santoro e i suoi compagni raggiungessero quella soglia che rende possibile mandare dei parlamentari al Parlamento europeo, mentre dico e ripeto convintamente questo, mi dico anche per farci che al Parlamento europeo. E poi cos'è l'Europa nella quale incomprensibilmente tante persone diciamo che hanno partecipato ai movimenti radicali dell'ultima parte del ventesimo secolo che hanno dedicato ad un certo punto le loro energie. Penso ad esempio a Yanis Varoufakis o penso a Tony Negri, persone che ad un certo punto della loro vicenda intellettuale e politica hanno proposto di investire energia nel progetto europeo. Ecco, non ci credo, voterò per Michele Santoro e farò una campagna a loro favore, ma non credo in nulla della verità politica dell'efficacia di quella battaglia che pure intendo paradossalmente sostenere. Perché? Tanto per cominciare chiediamoci cos'è l'Europa. L'Europa è il cuore nero del nazismo liberale che nell'ultimo secolo ha speso le ultime monete della modernità. L'Europa è il cuore nero della devastazione coloniale che da cinque secoli costringe il mondo a seguire un ritmo che non è un ritmo umano e che soprattutto è un ritmo che ha devastato, ha mangiato le possibilità stesse di riprodurre un futuro. Cosicché oggi, chiunque oggi abbia occhi per vedere ed intelligenza per comprendere, sa che quella vecchia provocazione dei Sex Pistols che dicevano non c'è futuro, non c'è futuro, e tutti dicevano vabbè dai sono musicisti anarchici, stanno scherzando. Non scherzavamo affatto. Stavamo dicendo su questa strada noi stiamo distruggendo ogni possibilità di sopravvivenza felice sulla Terra. Per ragioni che poi poco alla volta abbiamo scoperto, abbiamo compreso. Bruno Latour ci ha spiegato in maniera inconfuttabile che la distruzione dell'ambiente planetario è un processo che il neoliberismo negli ultimi 40 anni ha condotto al suo limite estremo ed irreversibile. Noi sappiamo inoltre che la accelerazione che il capitalismo neoliberale ha prodotto negli ultimi decenni ha devastato la risorsa ultima che è il cervello umano, che è la capacità degli esseri umani di vivere umanamente e di comprendersi, di comprendere il loro linguaggio. Quella accelerazione, che è un'accelerazione della produttività, dei ritmi di vita, ma che è soprattutto un'accelerazione del ritmo degli impulsi che raggiungono il cervello umano, quella accelerazione ha devastato irreversibilmente la vita intelligente dell'umanità e quando la vita intelligente è stata devastata cosa ci resta? Matteo Salvini. Ci resta una vita che di intelligenza non ha più niente, che di umano non ha più niente. Ecco, è dunque possibile oggi trovare un modo, perché questa devastazione possa convivere con un'esistenza felice di chi ha avuto l'avventura di essere messo al mondo un po' irresponsabilmente, debbo dire, negli ultimi decenni. Questa è la domanda che ci resta. Torniamo all'Europa. Cos'è l'Europa, oltre che il cuore nero della devastazione colonialista, l'Europa è anche un continente di vecchi. È un continente che è dominato dalla semilità. Naturalmente non sono qui per insultare i vecchi, sarebbe ridicolo se lo facessi. D'accordo, ho iniziato con un paradosso, potrei continuare, ma non è questo il punto. Ho rispetto e simpatia per i vecchi alcuni, pochissimi in verità, e quelli che conosco. E tutti gli altri non li conosco perché non li rispetterei. Ma il punto è che la semilità è una condizione che l'umanità abituata all'accelerazione capitalistica non può tollerare. La semilità è una condizione nella quale soprattutto noi perdiamo la capacità di credere nella potenza della volontà. Ora, qui ci troviamo di fronte ad un nucleo essenziale di tutta la faccenda. La modernità nasce come atto di volontà. All'origine della modernità io metto una frase di Machiavelli. Al paragrafo 25 del principe Machiavelli dice che il potere è la capacità di sottomettere fortuna la quale è femmina e le piace essere maltrattata e sottomessa. in quelle parole di Machiavelli geniali come tutto quello che il cinismo moderno ci propone non tutto talvolta in quelle parole geniali sta condensata la verità politica della modernità. Il potere è capacità di sottomettere fortuna nel senso latino della parola naturalmente cioè la infinita imprevedibile variabilità degli eventi umani. Fortuna ovvero sia la ricchezza della natura la ricchezza della vita è femmina e dunque imprevedibile e desiderosa di essere sottomessa. La modernità è stato un processo di sistematica sottomissione non solo della femminilità propriamente intesa ma di quella ricchezza inesauribile che è la femminilità della natura e degli eventi nel loro presentarsi non determinato. La modernità è questo è la riduzione del molteplice ad una ossessione accumulativa che chiamiamo ad un certo punto capitalismo ecco bene partiamo di qua l'Europa è il cuore nero di questa visione della modernità ora la modernità richiede un investimento di fiducia di credenza nel futuro nella espansione non vi è capitalismo senza espansione ed il futuro che noi abbiamo vissuto nell'epoca tardo moderna è fondata sull'idea dell'espansione per cui la frase paradossale not future non vuole dire che domani mattina non c'è più niente vuole dire è finito quel futuro il futuro che il capitalismo marca indelebilmente come espansione non c'è più possibilità di espansione ovvero c'è ma l'espansione diventa possibile solo a patto di una distruzione sempre più sistematica sempre più feroce sempre più disumana ecco che cosa significa che non non c'è non c'è più futuro e nel momento in cui il cervello senile si rende conto del venir meno di quella di quella possibilità il cervello e soprattutto il cervello senile si rende conto della sua impotenza della sua impotenza politica della sua impotenza esistenziale sessuale nel momento in cui il cervello senile fai conti con questa verità nuova perché mai nella storia umana la segnalità è stata così preponderante come è oggi in tutto il mondo occidentale questa è una novità straordinaria assoluta mai compresa studiata dal pensiero la segnalizzazione della società il rovescio della segnalizzazione della società è una sorta di crisi di panico del cervello bianco incapace di governare un mondo che non ha più possibilità di espansione Gunther Anders un pensatore ebreo e tedesco scrive in molti punti della sua opera che il mondo la civiltà nell'epoca dell'epoca della bomba atomica la bomba come sapete è l'ossessione fondamentale del pensiero di Gunther Anders Gunther Anders ci dice da un certo momento in poi le potenze umane vengono meno e l'uomo segnalizzato investe le sue potenze nella tecnologia al punto che la tecnologia diventa il vero governatore dominatore del mondo e l'uomo segnalizzato si trova in una condizione di vergogna vergogna prometeica la chiama Gunther Anders questa condizione di umiliazione del vecchio incapace di vivere la segnalità come condizione felice capace di vivere la segnalità solo come perdita di una potenza che è la potenza del dominio e della riduzione quel vecchio letteralmente impazzisce non c'è nessun modo di spiegare con gli strumenti della politica moderna Donald Trump non c'è modo per spiegare la crescita di una destra indefinibile in termini politici l'unica chiave interpretativa è la psicopatia e non è un modo per accorciare il ragionamento sono pazzi no non è che sono pazzi la questione è molto più complicata di così ciò cui noi stiamo assistendo è una crisi di panico del cervello bianco senilizzato voi mi scusate se uso l'espressione bianco razza bianca so benissimo che non significa niente che non c'è nulla di definibile come razza bianca ma c'è una mitologia della razza bianca che si auto identifica che si autocostituisce e che costruisce la propria potenza su questa illusione che possiamo chiamare suprematismo il suprematismo bianco è giunto al capolinea ma non è in grado di accettare questa verità e dunque letteralmente impazzisce e noi ci troviamo di fronte ad un fenomeno che i politici non possono spiegare in nessuna maniera ecco questo è la faccia della senilizzazione poi ce n'è un'altra e l'altra faccia è coloro che hanno avuto l'avventura di venire al mondo quando il mondo era letteralmente esaurito finito c'è un film di una regista libanese che si chiama Nadine Labakis il titolo del film è Kafarnaum è la storia di un ragazzino dodicenne che si chiama Zain è un ragazzino siriano che vive a Beirut perché la famiglia ha dovuto abbandonare la Siria per le ragioni che sappiamo benissimo per la devastazione che la guerra ha portato in quel paese Zain ad un certo punto Zain si guadagna da vivere vendendo non so bene cosa su marciapiede nelle condizioni tremende in cui può vivere un rifugiato siriano di dodici anni e per qualche ragione si trova a parlare con un giudice e viene portato davanti al giudice e al giudice Zain dice vorrei denunciare mio padre e mia madre e il giudice gli chiede ma scusa perché e Zain risponde perché mi hanno messo al mondo ecco le parole di Zain riassumono perfettamente tutto quello che c'è da sapere a proposito della generazione giovane perché ci avete messo al mondo questa è l'unica domanda che vale la pena di farsi quando pensiamo a quella che gli psichiatri chiamano la depressione giovanile voi sapete tutti bene ormai lo scrivono anche i quotidiani che gli psichiatri di tutto il mondo si sono resi conto del fatto che un fenomeno difficilmente definibile in termini scientifici che però qualcuno chiama depressione si sta diffondendo come fuoco di foresta nella popolazione giovanile vi risparmio i dettagli perché è un argomento che mi interessa quindi so quasi tutto come se fosse possibile sull'argomento bene è veramente depressione quella di cui parlano gli psichiatri e poi che cosa vuole dire depressione gli psichiatri sempre che la sanno lunga dicono che la depressione è il venir meno del desiderio nei confronti della realtà è il venir meno di quella spinta che rende possibile una realizzazione ecco quel venir meno che possiamo curare con le pillole talvolta anche con la psicoanalisi e con la psichiatria si cura la depressione si cura ma non serve a niente curarla perché comunque essa è la verità di questo tempo perché nella generazione che ha imparato più parole da una macchina che dalla voce della madre quella generazione vive oggi una condizione che non può che essere una condizione di scollegamento del desiderio nei confronti della realtà sempre gli psichiatri che sono quelli che su questo argomento ne sanno di più dicono che la sessualità sta scomparendo dai comportamenti della razza umana e il coso Luigi Zoya psicoanalista psichiatra di formazione lacaniana ha scritto un libro che si chiama Il declino del desiderio non sono sicuro che si tratti proprio di un declino del desiderio certamente si tratta di un declino anzi quasi di un abbandono di quella vecchia abitudine che talvolta rendeva la vita un po' più tollerabile che era la sessualità vedete ne parlo al passato cosa sta succedendo un signore che si chiama David Spiegelhalter che insegna alla Columbia University e fa di mestiere lo statistico ha calcolato che la frequenza degli incontri sessuali sia ridotta dalla fine degli anni 80 alla fine degli anni 10 si è ridotta in proporzione da 5 a 2 a meno della metà alla fine degli anni 10 poi c'è stato il covid che ha prodotto tra le altre cose un trauma di tipo propriamente sessuale un trauma che si manifesta in primo luogo come sensibilizzazione fobica nei confronti del corpo dell'altro nei confronti delle labbra dell'altro le labbra sono state identificate come il luogo del pericolo più radicale ecco dunque che noi entriamo in un'epoca in cui come dice il filosofo là dove sta il pericolo sta probabilmente la salvezza noi entriamo in un'epoca in cui finalmente la razza umana si rende conto del fatto che non è più il caso di riprodursi naturalmente tutti pensano che io sto scherzando non sto scherzando affatto sembra che il governo sudcoreano si preoccupi enormemente del fatto la Corea è numero uno nelle tendenze in questo tipo di tendenze e nella Corea del sud naturalmente del sud Kim Jong-un non ci dice niente a proposito di quello che accade da lui ma la Corea del sud ha raggiunto il record assoluto di un tasso di riproduzione di 0,7 i demografi prevedono che nel 2025 scenderà ulteriormente a 0,6 0,60 ora chi sa un poco di demografia sa che il tasso di riproduzione normale è 2,1 se due esseri umani mettono al mondo 2,1 esseri umani più la popolazione continua a riprodursi ecco se scendiamo sotto questo tasso si verifica quello che gli spiritosi chiamano inverno demografico espressione che mi fa ridere ma che rende perfettamente la cosa una progressiva auto eliminazione della popolazione questo in Corea è ormai ad un punto così avanzato che si può prevedere che nel giro di tre generazioni i coreani finalmente non ci saranno più mi congratulo con loro perché la vita che fanno è talmente orribile che la sola cosa che riesco ad augurargli è di scomparire la stessa cosa accade agli italiani ci mettiamo quattro generazioni forse cinque ma possiamo stare tranquilli il tempo che ci resta è grazie al cielo poco ecco questa è a mio parere la direzione in cui la cosiddetta depressione si muove una diserzione dal prima di tutto e più di tutto dalla riproduzione di quell'inferno che è diventata la vita umana su questo pianeta ora proviamo ad immedesimarci in quelli in quelli miliardi di donne che nel mondo si chiedono si interrogano a proposito del futuro e si rendono conto del fatto o forse non se ne rendono conto ma l'inconscio gli suggerisce che nel futuro due cose sono garantite una è la irreversibile degradazione dell'ambiente fisico del pianeta l'inferno climatico che secondo ogni dato di cui disponiamo è un processo irreversibile due la la guerra che è ritornata sul prima di tutto in Europa e nel mondo come una tendenza alla quale appare impossibile sottrarsi ecco perché ho detto di no a Michele Santoro quando mi proponeva di perché riconosco che sarei felicissimo e farò tutto quello che è nelle mie scarse possibilità e se quella lista di persone per bene raggiunge il 4% necessario per mandare qualcuno al Parlamento europeo ma che cosa ci sta a fare il Parlamento europeo non mi è non mi è chiaro il Parlamento europeo è con ogni evidenza un ente del tutto inutile ma che cosa ci sta a fare l'Unione europea beh nella mia memoria l'Unione europea meritava di essere presa talvolta in considerazione perché l'Europa nasce come entità politica dopo la guerra come una forza di pace non vi è un'altra ragione d'essere del continente che ha prodotto Adolf Hitler e dunque nel mio scetticismo anarcho dadaista non potevo negare che comunque l'Unione europea è nata per affermare un principio di mediazione politica laddove la tradizione moderna invece riproduceva la guerra bene questo non è più vero nell'arco di pochi mesi o di pochissimi anni noi abbiamo assistito ad una cosa di cui praticamente nessuno parla ma che è gigantesca l'Europa si è trovata di fronte al moltiplicarsi di occasioni nelle quali una forza di mediazione sarebbe stata indispensabile ed invece che svolgere quel ruolo che le toccherebbe se fosse quello che prometteva di essere l'Europa manda armi perché gli ucraini si facciano ammazzare in quantità crescente oppure l'Europa chiude non un occhio e non due ma tutti gli occhi disponibili di fronte ad un genocidio che si svolge con ogni evidenza a pochi chilometri da Siracusa ecco quello che sta accadendo a Gaza è probabilmente la tomba la pietra tombale sulla possibilità di credere in qualche misura alla forza della politica alla forza della mediazione al valore pacificante dell'Unione dell'Unione europea e io non ho un orologio accidenti a me ho spento il telefono per cui non ho idea di quanto tempo mi resti ma forse Germano lo sa però ho quasi finito in questi ultimi tempi mi 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 sono messo a leggere alcuni autori giovani che parlano essenzialmente di depressione ne cito due potrei potrei dilungarmi ma la faccio breve una si chiama Halle Butler e ha scritto un libro che si chiama The New Me il nuovo me diciamo così è la storia di una ragazza trentenne mi pare che passa da un lavoro precario all'altro cercando non tanto di trovare la sicurezza lavorativa della quale poco le importa che è un'espressione che non significa praticamente niente ma di trovare una condizione socialmente affettivamente tollerabile è un libro un romanzetto diciamo così sul lavoro precario non dal punto di vista della sindacalizzazione dell'economia dei diritti del lavoro eccetera tutti argomenti piuttosto passé ma dal punto di vista dell'affettività umana ecco è un romanzo questo La Nuova Me in cui ci appare la figura di una giovane donna che non è certo clinicamente depressa lo ripete tante volte e così via ma che in realtà è soprattutto disperata ecco la figura della disperazione è quella che interessa a me non quella della depressione perché la disperazione è la condizione nella quale è necessario installarsi intellettualmente badate la disperazione non è uno stato del cuore non è uno stato del corpo a differenza della depressione che è una condizione che affligge il cuore e che affligge il corpo la disperazione può essere allegra anzi ciò cui io aspiro è una disperazione allegra la disperazione è uno stato della mente è indispensabile oggi essere creativamente disperati felicemente disperati perché mi ricordo una volta mi invitarono degli amici artisti a parlare a a bucarest gli amici romeni e quando sono arrivato mi hanno portato nel museo di arte contemporanea dove si doveva svolgere il mio discorso quando sono entrato in questa sala sapete che è una sala tutta bianca di marmi perché si trova dentro il palazzo dice a Usescu una parte del palazzo di marmo di Ceausescu quando sono entrato lì dentro in fondo alla sala c'era un enorme cartello, striscione che diceva no hope nessuna speranza naturalmente mi sono avvicinato al mio amico Florin e ho fatto lo spiritoso e lui ha detto non è affatto il caso di fare gli spiritosi quelle due parole vanno prese molto letteralmente noi abbiamo conosciuto il comunismo di Ceausescu e poi abbiamo conosciuto la libertà del capitalismo occidentale, se sei venuto a Bucharest per far cibalenare una nuova speranza è meglio che te ne torni a casa prima di parlare ecco ho imparato quella lezione, ho imparato che chiunque parli di speranza con chi oggi apre gli occhi sulla realtà della catastrofe climatica e sulla realtà della guerra nucleare che si sta preparando in Europa chiunque parli di speranza è un mascalzone ecco io parlo di un'altra cosa parlo di disperazione perché mi pare che la disperazione sia la condizione per iniziare finalmente una vita liberata dalle promesse ingannevoli della civiltà la civiltà sta tirando gli ultimi non so se si dice così in italiano la civiltà è praticamente già scomparsa ecco ne resta qualche traccia qua dentro in altri due o tre posti del nostro territorio e non è della civiltà che possiamo occuparci e di noi e di coloro che sono stati irresponsabilmente messi al mondo coloro hanno diritto di vivere una vita felice e debbono capire che non vi è altro modo per vivere una vita felice che disertando disertando prima di tutto l'illusione del lavoro e poi magari accettando un lavoro inevitabile merdoso come è tutto il lavoro che però talvolta ci tocca di accettare disertando il consumo perché il consumo non è la condizione di una di una vita ricca è la condizione di un di una crescente e devastazione estetica dell'ambiente in cui noi viviamo io credo che la generazione che cresce sapete gli economisti si preoccupano perché dopo il covid gli indici di consumo non sono ripresi ma certo perché dovremmo continuare a consumare ciò che ci viene proposto il rifiuto della plastica non è un rifiuto etico ecologico è prima di tutto un rifiuto estetico e dunque la diserzione dal consumo la diserzione dalla politica la stensione cos'è è l'unico atteggiamento diciamo così consapevole di chi ha imparato cos'è la democrazia da un secolo abbiamo imparato che la democrazia è solo l'anticamera del fascismo è vero ci sono stati momenti in cui la democrazia era un'altra cosa perché gli operai avevano il fucile sulla spalla come dice uno slogan che non si dovrebbe ripetere ma naturalmente sto dicendolo metaforicamente quando gli operai hanno avuto il fucile sulla spalla quando internazionalismo significava qualcosa allora sì la democrazia poteva provvisoriamente creare condizioni di vita solidale ma quando la solidarietà viene meno perché la generazione che ha imparato più parole da una macchina che dalla voce della madre non è capace di concepire e vivere solidarietà quando questo accade cos'è la democrazia se non l'anticamera del nazismo ecco questo è quello che io ho da dire che non è bello e però mi pare che sia il momento come diceva il presidente non vi dico quale presidente di abbandonare le illusioni lui diceva è prepararsi alla lotta io dico abbandonare le illusioni e prepararsi alla diserzione che in un linguaggio un po' antico si può chiamare anche autonomia vi ringrazio grazie grazie ringraziamo Franco Berardi per questo suo intervento e io direi che possiamo aprire gli interventi le domande in modo che appunto Franco possa rispondere a qualche come dire dico solo per dare qualche minuto a ciascuno di voi come dire c'è un discorso di forte radicalità cupo ma al tempo stesso come dire anche liberatorio non è che non colga la tendenza del tempo che stiamo vivendo tutto schiacciato non soltanto come fino a prima del covid si diceva è una sorta di presentismo immobilizzante in assenza di futuro quindi pensate un po' alle nuove generazioni noi come dire apparteniamo a quella che va a concludersi diciamo così ecco però siamo nel vivo di una condizione per certi versi per analogia mi veniva di fare un riferimento con c'è questo lo sforzo del pensiero di giocare nell'analogia di tempi diversi e problemi complessi non so gli ultimi giorni dell'umanità nel 1920 di Carl Krauss diciamo così no avvertiamo su di noi per le cose che diceva il clima di guerra globale l'incapacità la crisi globale di tutte le leadership mondiali al di là della collocazione se pensiamo a ciò che avverrà tra qualche mese negli Stati Uniti nel fallimento proprio delle leadership del paese che ha governato e gemonizzato il novecento ecco butto lì alcune cose che insomma attraverso ne sono interne a questa riflessione che appunto Berardi faceva in questa sua conferenza quindi io invito chi volesse fare un intervento raccogliamo alcuni interventi domande ecco interventi brevi che possono consentire appunto all'ospite poi di replicare e poi terminare questa piacevolissima occasione che oggi il MED o MADE insomma è Germano ha organizzato con tutti noi appunto alla presenza di Franco Berardi chi vuole intervenire sì Fabio Fabio ah sì 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 ci sono nel ragionamento che fa Berardi tantissime suggestioni naturalmente anche molte condivisibili ma altre meno almeno per quanto mi riguarda quindi io sarei quello che tu definisci un mascalzone perché perché probabilmente anche io ho appartenuto ad una generazione che aveva pensato e creduto che la politica avesse una capacità saldifica e quindi legata anche per alcuni aspetti delle tue riflessioni alla felicità via via nel tempo capito che la politica non ha alcuna capacità saldifica ma serve a cose molto piccole concrete al ticket un po' più alto per la famiglia che deve comprare le medicine alla luce di una strada al salario che deve essere un pochino più dignitoso per chi lavora eccetera eccetera questo è la politica non è la possibilità di realizzare dei sogni o delle immaginazioni di una società come dire utopica e quindi da questo punto di vista non mi affascina certamente più il comunismo non mi affascina questo capitalismo perché sono come tanti di voi immagino diciamo pienamente incompatibile con tutta una serie di cose che accadono giorno per giorno nella nostra vita quindi io temo che nel questo ragionamento che poi porta all'esasperazione di alcune di alcune visioni ci sia e che quindi passa al dolore alla sofferenza alla alla ricerca di di spazi di felicità individuale alla fine di micro felicità no? io credo che questo ci sia il segno di una sconfitta lo dico proprio in modo molto sincero nel senso che ci porta a non far più nulla e ci porta a rinunciare all'idea che cos'è l'Europa nel senso questa distruzione dell'Europa ma per me l'Europa è Charlie Chaplin per me l'Europa è Platone per me l'Europa è Marx per me l'Europa sono i Beatles cioè per me l'Europa è qualche cosa che è dentro la mia storia la mia la mia e quindi mi spaventa questa visione come dire distruttiva e poi tu dici che voti fai votare in un certo modo e allo stesso tempo ti mangi questa ipotesi che l'Europa possa fare qualcosa ecco insomma queste erano le riflessioni le raccogliamo le raccogliamo intanto a 3-1 e poi magari rispondere prego prego sì grazie ma le ultime parole del il mio nome sì Lorenzo Perrona sono Lorenzo Perrona 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 sono un docente ma le ultime parole della sua conferenza mi hanno hanno aperto un varico però perché se ho capito bene il no future significa che deve iniziare la lotta e quindi una lotta senza illusioni e siamo d'accordo tutte le cose dette mi trovano molto in consonanza però allora faccio una domanda come si può lottare e lo chiedo anche a un esponente molto lucido anche attraverso la sua esperienza durante gli anni 70 perché gli anni 70 non sono stati diciamo ecco l'etichetta degli anni di piombo ma sono stati dei momenti di grande creatività di dello statuto dei lavoratori eccetera eccetera che poi invece sono state come dire progressivamente cancellate quindi volevo ecco per concretizzare un po' il mio punto l'altro ieri in una scuola di Genova la Diaz gli studenti si sono opposti al al solito intervento di carabinieri le forze armate le forze armate che non so se sapete ma nelle scuole ormai con una normalità non recente intervengono per parlare di legalità di diritti eccetera e quindi questi studenti della Diaz si sono opposti poi come possono fare adesso uno striscione che poi è stato subito tolto ricordo che la Diaz è stata la scuola dove nel 2001 durante il G8 di Genova c'è stata la macelleria sudamericana ecco allora loro hanno dato un segno mi pare a questi studenti questa può essere una lotta ecco come intendiamo come possiamo intendere una lotta oggi anche se senza speranza sì allora molto brevemente una tu parli di diserzione allora condivisibili molti punti dell'analisi insomma una certa visione apocalittica siamo tutti sappiamo tutti che siamo sull'orlo del baratro ma come dire il quadro che dipingi è quasi quello di una caporetto come dire quando succede caporetto si salvi chi può e proponi la diserzione non è un congedo dalla politica congedarsi dalla politica uno dice vabbè ragazzi alzo bandiera bianca ma rendo è finita il disertore il disertore fa una brutta fine generalmente il disertore è un atto di disubbidienza viene fucilato durante i conflitti no il disertore quindi come dire una si salvi chi può una soluzione ecco questo mi lascia molto molto perplesso vorrei sentire un tuo parere io inizierei da questa terza non è una domanda è una perplessità intanto la parola diserzione è evidente che è una parola che noi usiamo prima di tutto per intendere l'atteggiamento di chi quando c'è la guerra scappa chi alla mia età forse ricorda un romanzo cecoslovacco di Jaroslav Hasek che si chiamava Il buon soldato Schweik io l'ho letto quando avevo 14 anni e l'ho riletto recentemente e mi sembrava di averlo letto ieri tanto mi convince mi ha mi ha diciamo influenzato quel quel romanzo la storia del soldato Schweik è la storia di uno di un idiota o forse più probabilmente di uno che fa l'idiota per non pagare il dazio prima guerra mondiale e il buon soldato Schweik capisce che quella guerra è persa che qualsiasi guerra è persa per uno come lui ma è così persa che il buon soldato Schweik non è nemmeno in grado di dire vabbè io scappo perché sa che non ci riuscirebbe lo acciufferebbero gli sparerebbero alla schiena eccetera certo prima di tutto la diserzione è questo è consapevolezza del fatto che la guerra è persa qualsiasi guerra è persa non è un caso se la parola diserzione che sta nei recessi del mio inconscio fino da quando per l'appunto avevo 14 anni forse anche da prima quella parola mi è affiorata dopo il febbraio del 2022 quando mi sono trovato nella situazione di dire ma cosa farei se io fossi a Kiev combatterei per la difesa della patria dunque la difesa della patria mi fa ridere è un'espressione che non riesco nemmeno a prendere in considerazione però però è vero che tuo fratello la tua casa beh quella invece magari potresti anche volerle difendere e dunque mi sono detto ma forse se io fossi a Kiev sarei in qualche modo costretto a combattere contro l'invasione russa perché perché sì perché non posso non farlo per mille ragioni che non meritano nemmeno di essere teorizzate ecco e poi mi è venuto in mente mio padre mio padre si trovava l'8 settembre del 1943 in una caserma di Padova a un certo punto non era un antifascista ma non sapeva neanche cos'era il fascismo e non gliene importava niente però ha saputo che gli amici di ieri erano diventati forse gli amici di domani ma non era nemmeno tanto sicuro e che i nemici erano e che comunque bisognava tagliare la corda letteralmente e quindi lui ha tagliato la corda come tutti gli altri mentre tagliava la corda ha saputo che c'erano i tedeschi che lo potevano arrestare e quindi è diventato un disertore ma non lo ha fatto perché non gli piaceva il fascismo o la guerra nemmeno la guerra tanto lui si era imboscato quindi stava tranquillo fino a un certo punto e ecco il problema e mio padre che poi è diventato partigiano me lo ha ripetuto mille volte bisogna dissociarsi da coloro che ti chiamano a combattere qualsiasi sia la ragione l'ideale ecco dunque questa è la mia diserzione ora io ho dei vecchi compagni che erano maoisti nel 1968 per dire i nomi più indecenti non so un signore che si chiama Bernard Henri Lévy lo conoscono tutti perché sfarfalla da una rivista all'altra invitando la gente a farsi ammazzare per i suoi ideali che è la cosa che lui preferisce che gli altri si facciano ammazzare naturalmente ecco se posso dire da quale parte sto la mia risposta è immediata contro Bernard Henri Lévy da una parte diversa da quella in cui sta Bernard Henri Lévy Bernard Henri Lévy vuole la guerra contro la Russia maledetta e tirannica poi me ne viene in mente un altro che si chiama Edward Limonov il quale è esattamente uguale sputato a Bernard Henri Lévy un assassino che manda però a farsi assassinare qualcun altro in maniera sistemata bisogna dire che Edward Limonov ha un po' più di coraggio di Bernard Henri Lévy il quale certamente sta nel gradino più basso dell'indegnità umana perché almeno si è fatto qualche anno di galera del tutto demenziale e devo dire ma Edoardo Limonov è un fratello gemello ed opposto di Bernard Henri Lévy è un russo che invita la Russia a combattere invitava perché il signore l'ha chiamato a sé dunque è il russo bene ecco io ho una una perfetta percezione del fatto che Limonov e Bernard Henri Lévy e potrei continuare la lista potrei citare anche il signor Serge Juli che è stato per un poco direttore del giornale Liberazione che una settimana fa ha pubblicato un articolo che si chiama Os Armes europee alle armi europee è ora di combattere per i nostri valori la democrazia eccetera eccetera tanto Serge Juli sa benissimo che avendo la mia età non corre il pericolo di andare in prima linea qualcun altro morirà al posto suo e lui sarà felice di questo dunque lì mi è scattata l'idea che la diserzione è il comportamento politico che oggi definisce è un comportamento politico la diserzione ma no come mio babbo che poi divenne partigiano mentre scappava stava scappando e ha incontrato dei tipi che gli hanno detto ma cosa fai da solo vieni con noi che almeno ci difendiamo in un gruppo ed è diventato partigiano poi fra i partigiani ho visto che c'erano alcuni che parlavano un ottimo italiano hanno letto dei libri chi sono questi comunisti ed è diventato comunista ed è stato partigiano comunista ma non perché aveva degli ideali ecco la cosa che io ho imparato da mio padre è che se qualcuno parla di ideali bisogna stare molto attenti è un mascalzone è uno che o ti vuole rubare il portafoglio o ti vuole mandare a morire da qualche parte e allora ho cominciato a ragionare in termini di diserzione e ho visto che era un concetto una chiave che mi apriva se non tutte almeno molte porte del comportamento contemporaneo il comportamento contemporaneo prima di tutto dei giovani depressi ma depressi cosa? ma se fossero allegri sarebbero deficienti non lo sono perché si rendono conto del fatto del fatto che non c'è nulla di cui essere allegri e però dobbiamo forse accettare l'idea che Perrone mi chiede quale lotta propongo io in verità la parola lotta la lascerei anche un po' da parte per essere sincero oppure sì se vogliamo chiamiamo la lotta io la chiamo diserzione un po' è la stessa cosa se vogliamo perché quella diserzione che io non propongo a nessuno ma che mi sembra di poter leggere nei comportamenti delle persone sensate delle persone amiche delle uniche persone per cui provo amicizia i disertori le disertrici ecco quella cosa lì è l'unico comportamento che non solo ti permetta forse di salvarti la pelle forse perché non è sicuro è probabile che ti ammazzeranno anche se diserti ma per almeno perlomeno non ti avranno ammazzato per l'ideale ma per il sbaglio e bene ecco quelle persone i disertori sono gli unici che hanno oggi la capacità di riproporre quella cosa che un tempo legittimamente si chiamava lotta cioè un'attività che non solo ti permette di ritrarti rispetto alla indegnità della guerra e di alcune altre cose ma ti permette anche di cambiare i rapporti di forza perché quando 4 milioni e mezzo di operai americani dopo il covid hanno deciso di non tornare a lavorare cosa è successo si chiamava in quei giorni sui giornali americani usavano l'espressione great resignation la grande dimissione l'abbandono del lavoro e cosa è successo subito che i padroni hanno dovuto aprire il portafoglio e i salari dei lavoratori americani sono decisamente aumentati ecco voglio dire rifiutare andarsene non solo ti permette forse di salvare la pelle ma ti permette anche di acquistare un rapporto di forza con il potere che se crediamo nei valori del potere non avremmo mai e quanto quello che dice Fabio sul fatto che abbiamo imparato che la politica non è fatta per la felicità adorno diceva da qualche parte in maniera più radicale che la storia non è il luogo nel quale cercare la felicità e allora andiamocene se è vero poi Fabio naturalmente persona concreta dice la politica serve per distribuire meglio per garantire beh di fronte a questa constatazione io ammetterei che ha ragione lui ma purtroppo no non ha ragione lui perché se io penso a come vivevano i lavoratori 50 anni fa quando potevano mandare i figli all'università potevano fare due settimane di vacanza e soprattutto potevano pensare che avevano alcune garanzie e poi paragono con quello che la politica ha prodotto 50 anni più tardi la politica si fa per dire e tante altre cose ma ciò che la politica non è assolutamente riuscita ad evitare beh i lavoratori oggi stanno un milione di volte peggio di come stavano 50 anni fa non esiste più nessuna possibilità di credere in una parola come progresso se paragoniamo le condizioni di vita dei lavoratori negli anni 60 70 80 e anche un po' 90 e le condizioni dei lavoratori oggi perché perché allora i lavoratori disertavano dicevano non credo nei valori del lavoro sono costretto ad andare a lavorare e non posso farne a meno però perché io lavori occorre che mi si tratti bene altrimenti faccio sciopero e facevano sciopero continuamente e ciò nonostante la società andava avanti progrediva migliorava le condizioni di lavoro miglioravano la tecnologia spinta dal rifiuto operaio progrediva e era la disarzione che rendeva possibile un miglioramento delle condizioni di tutta la società oggi i lavoratori sono stati convinti del fatto che invece bisogna collaborare bisogna essere in qualche modo disponibili a comprendere che ci sono degli interessi generali della società e sono stati fregati in maniera definitiva ecco naturalmente l'analisi che sto facendo è molto semplicistica e povera perché per capire la sconfitta della società intera non basta limitarsi ad un discorso sulle condizioni di lavoro e condizioni economiche bisogna andare molto più nel profondo bisogna capire quello che è successo alla affettività sociale capire cosa è successo alla generazione lo ripeto per la terza volta che ha imparato più parole da una macchina che dalla voce della madre perché se capiamo quella cosa lì abbiamo capito quasi tutto Antonello Landolina volevo chiederti se ci sono in questa dissersione i margini per cambiare la visione delle cose se ancora è possibile cambiare la visione delle cose liberarsi da limiti del proprio vedere sentire e far nascere una coscienza collettiva se ci sono ancora queste possibilità io non volevo chiedere nulla in realtà volevo fare solo una riflessione volevo fare solo una riflessione nel senso che per comprendere penso quello di cui si sta parlando oggi come come dire avviene anche in ogni percorso di narrazione autobiografica bisogna essere nati in un determinato periodo storico e aver vissuto determinate cose per cui né diciamo un passo in più né un passo in meno e allora io ricordo perché ero a Bologna in quel periodo in cui c'era Radio Alice eccetera e vedo qualcuno che fa così con la mano questo diciamo è l'atteggiamento delle nuove generazioni nuove che poi sono quarantenni cinquantenni e allora ricordo che c'erano i carri armati che la giunta di Zangerì Zangerà mandava i carri armati in piena città contro gli studenti e siccome io queste cose le ho vissute le fughe le dal rischio delle manganellate e qualche anno dopo il decreto diciamo poi che c'è stato dopo Moro per cui se tu diciamo se la polizia ti strattonava immediatamente a Firenze la polizia aveva poteri speciali e ti metteva in isolamento allora avendo diciamo vissuto determinate cose io forse mi sento di accogliere questo messaggio perché c'è una linea nella storia che ha camminato sotterraneamente che purtroppo e questo è stato Moro mi ricordo perfettamente ancora Piazza Maggiore gli studenti che eravamo tutti quanti disorientati che non capivamo cosa succedeva poi abbiamo capito dieci anni dopo che con come si chiama la legge che è uscita fuori subito dopo Moro no? La legge reale la legge reale esattamente e vabbè no c'è stato comunque un aggravamento diciamo e e quindi no non è una domanda è semplicemente una riflessione sul fatto che oggi questo diciamo invito a disertare ecco io lo leggerei non come uno stato di guerra per cui tu hai il fucile e devi scappare ma lo intenderei in maniera un po' più metaforica se possiamo usare il linguaggio di quei tempi cioè dire disertare da tutto quello dall'impero di cui parlava Tony Negri da quella situazione di impero di cui parlava Tony Negri e cioè dire la come dire l'estrema fase del capitalismo noi stiamo vivendo in questo momento che poi era stata già preconizzata da Marx nel capitale cioè non è nulla di nuovo cioè a un certo punto ci sarà una crisi di sovrapproduzione per cui la guerra come soluzione finale per potere dal punto di vista economico questo surplus eliminare questo surplus quindi a questo punto che cosa è accaduto noi stiamo vivendo questa fase adesso negli anni 2000 e non possiamo come dire non abbiamo via d'uscita perché ormai il livello di globalizzazione del mondo e di capitalizzazione la famosa frase il volo della farfalla a Shanghai che provoca lo tsunami in California quindi non abbiamo molte vie d'uscita io sono stata a Natale a Svizzera dove c'era un convegno della società antroposofica con 50 nazionalità diverse cioè persone che arrivavano da 50 paesi diversi parlando lingue diverse come una nuova torre di Babbele in cui ci comprendevamo però perché usciva fuori quello che anche nella società antroposofica non era stato possibile dire cioè dire e ora è venuto il momento di avere un'anima cioè che la politica dove per politica si intende l'essere in senso aristotelico la polis il partecipare alla vita sociale pubblica è venuto il momento in cui è necessario che abbia un'anima cioè il cuore comincia Martin Diez che ha scritto un libro bellissimo il cuore comincia ad avere pensieri e quindi ecco era più che altro un messaggio il disertare significa il rientrare in se stessi e coltivare questo aspetto di anima che non confligge col pubblico perché tante anime che si incontrano è un tornare indietro cioè quell'utopia degli anni 70 che purtroppo non è stata come dire non è non ha avuto la possibilità di emergere e lì è stata la morte di Moro secondo me che ha tagliato le gambe a quel processo storico va bene il calcio o il caso mai faccio una domanda così poi io vorrei raccogliere e radicalizzare la tua provocazione è chiaro che noi facciamo coincidere il precipizio ulteriore di questa dimensione del del neocapitalismo del neoliberismo a partire dall'affermarsi piena e reversibile della globalizzazione il termine è diventato un passepartout negli ultimi 30 anni e al tempo stesso ha significato una unificazione interrelazione destinale del globo per dei processi che sono stati sia politici la Thatcher no? lo smantellamento del welfare in Europa le politiche di Reagan e della Thatcher e così via io non per autocitarmi ma il mio libricino che appunto io ho intitolato sette mesi fa è così il sottotitolo di questa riflessione sulla crisi della potenza istituente cioè noi viviamo da alcuni decenni proprio perché la sfera politica ha assunto un'orbita come dire globale e quindi la dimensione della sovranità tutto il vocabolario del moderno è naufragato partecipazione democrazia rappresentanza progresso cioè tutte le dimensioni storico-temporali perché in coincidenza questo processo economico-finanziario di dominio quindi siamo sullo stesso terreno sul tema della lettura compresa appunto che anche la internet e il web e la rivoluzione tecnologica e informatica è il volto tecnico-scientifico della globalizzazione è chiaro? Allora che cosa accade da quando siamo di fronte ad una crisi della potenza istituente cioè dell'incapacità assoluta che coincide dalla crisi generale delle leadership l'ho detto all'inizio da Trump a Biden diciamo così fino ai paesi autocratici e così via eccetera allora siccome tu già lo dicevi ma le diserzioni sono già in atto nella crisi della politica perché che la politica abbia perso significanza effettualità capacità di governo delle comunità io dico locali nazionali regionali e globali allora la diserzione è già in atto che cosa produce questa diserzione già in atto nelle forme della soggettività di vita non produce quella che è determinata da questa dimensione globale ciò che tu auspichi io ti pongo davanti a questa domanda perché se per quanto io possa condividere per certi aspetti il tipo dell'appello che è appunto a questo tratto quasi di cinismo alla Choran disertate frugalità eccetera che cosa accade tra quelli che disertano e beh guardate che noi abbiamo avuto a parte il fatto che nelle ultime elezioni nazionali conta poco nel discorso che fai tu ma insomma per la prima volta dal 1947 il voto al Parlamento nazionale ha votato per la prima volta la percentuale più bassa in Italia quella già è una diserzione e che covava sotto tracce in questi anni e abbiamo lasciamo stare sul giudizio politico su chi governa oggi e che ha permesso che questo governo si affermasse perché qua apriremo una voragine ma il punto è questi che disertano che fanno sono nel ritiro in politico nella critica e quelle forme speculari di rivolta o le moltitudini che teorizzava Negri appunto perché l'ipotesi di Negri è che dalla dimensione dello Stato in cui erano i soggetti interni agli Stati la moltitudine è una categoria politica della contestazione no quello che è venuto fuori dal libro Impero ed Empire e così via cioè io io soffro per certi versi perché dico siamo ad una fase di una crisi istituente del politico perché è vero questo però la soluzione è che ciò che accade per una dimensione oggettiva nelle forme di diserzione singolare soggettiva di chi non va a votare quali forme di vita cioè ci sono forme di vita significative che la gente pone c'è un novum che dovrebbe imprimere cambiamenti anche nelle istituzioni però appunto non avvengono ed è il paradosso io credo davvero che noi siamo di fronte ad un passaggio epocale ad una fase che potrà voglio dire non è che facciamo profezie però o accade la terza la quarta guerra mondiale della distruzione oppure è un passaggio epocale c'è un passaggio di stato di fronte a guerre che sembrano che ci stanno avvitando nell'inesorabile io questo lo capisco però faccio fatica a immaginare che questo messaggio simbolico e potente che può sembrare la disersione come dire non sia espansivo perché nella fase in cui le forme di disersione già vi sono oggi da un decennio almeno nel calo della partecipazione nell'insignificanza della stessa sfera politica e così via nell'incapacità che la politica costruisca un immaginario di trasformazione questo sì che è una crisi ed è una forma di disersione per chi non partecipa più e allora questo ecco non è non impatta non impatta diciamo così nella sua insignificanza essa stessa io volevo fare un intervento per me è cruciale per il motivo di questo incontro in tutte le domande che sono state fatte purtroppo si conferma quello che Franco ha detto dall'inizio cioè la senilità la costanza della senilità di queste domande che non ammettono un punto di vista diverso il punto di vista cruciale che è quello della persona che ha imparato più parole dalla macchina la ripeto per la quarta volta che dalla madre il punto di vista di quella persona è un punto di vista che non può che essere depresso non può che essere depresso perché è un punto di vista così consapevole che come dice Bruno Latour anche quando un ragazzo di vent'anni guarda il sole si sente in colpa a differenza di mio padre e di mia madre ok quindi questo passaggio che è cruciale motivo per cui avrei desiderato una presenza di giovani molto più ampia è cruciale perché imparare come dice nell'epoca delle passioni tristi Benassayag la differenza tra una perché Franco lo dà per scontato ma non lo è la differenza tra la depressione clinica e una depressione globale se i ragazzi capissero ed è questo il disertare di Franco i punti di vista di chi ha fatto le domande sono più vicini a quelle di Franco di quanto si pensi ma in realtà Franco dice quella depressione ragazzi quella depressione mondo è una depressione globale non è la vostra accettatela perché è l'unico modo per creare dei nuovi paradigmi come ho detto all'inizio in cui invece che l'economicità dei nostri movimenti la gentilezza il gesto inutile la poesia regnano sovrani rispetto al gesto interessato il gesto disinteressato rispetto al gesto interessato come Franco che è venuto gratuitamente oggi a fare questo incontro senza fi senza hotel senza quello e quell'altro quello è un gesto disinteressato che serve a raccontare qualcosa è la prospettiva che manca è una prospettiva diversa è bello dire sì ma evitiamo a qualcuno di vivere la vita e certo la vita che ha vissuto la generazione prima della mia andava in discoteca ascoltava i Feel Love che è una musica propulsiva in cui l'idea di futuro era esageratamente bella adesso se vai in discoteca come ha detto Simon Reynolds uno dei critici musicali più importanti al mondo i produttori di musica fanno musica per far ballare e far piangere è il momento di cadarsi della nuova generazione è quello ed è un bel momento però se non si capisce che il punto di vista di chi ha imparato più parole da una macchina che dalla madre e allora a quel punto rimane credere ancora in dei meccanismi da cui non si uscirà mai quindi è questo che ci tenevo a dire perché per me riporta dentro a quello che è il valore di questo incontro oggi scusate angelino antonello molto sinteticamente possiamo attenderci una nuova coscienza collettiva ecco questa questa è la domanda che mi che mi pare possa portarci ad una conclusione la coscienza collettiva di chi dove ecco Germano per la quarta e per la quinta volta dice questa frase misteriosa una generazione che ha imparato più parole da una macchina che dalla madre è una frase che io ho letto su un libro di un'antropologa americana che si chiamava Rose Goldson che parlava delle nuove tecnologie tanti anni fa all'inizio della trasformazione tecnologica comunicativa e alla fine psichica e sociale ma c'è una femminista filosofa italiana che si chiama Luisa Muraro la quale dice che noi entriamo nel mondo del linguaggio ovvero attribuiamo un significato alle parole o anche al mondo grazie alla fiducia che noi abbiamo nei confronti della voce della madre la madre anche un cugino anche un vicino di casa non ha importanza la singolarità di una voce umana è la condizione la porta d'accesso al al significato al riconoscimento del significato Giorgio Agamben nel linguaggio e la morte aggiunge che la voce è il punto di incontro fra la carne e il significato frase geniale la voce peraltro singolarissima la singolarità della voce è probabilmente il marchio più profondo della singolarità dell'accesso al significato la voce è il punto di incontro tra la carne e il senso ora togliamo la voce cosa resta resta la l'attribuzione funzionale di significato a parole che non hanno più alcuna profondità e certo noi continuiamo ad imparare parole ma le impariamo operativamente funzionalmente da una macchina che non ha alcuna singolarità anzi che istituisce il significato nel venir meno della singolarità quel valore universale che le parole della tecnica pare paiono portare non è universale per nulla è semplicemente omologato e semplicemente segnato dalla mancanza di profondità del linguaggio che noi utilizziamo ora noi dobbiamo oggi fare i conti con una generazione che questa sera non ha parlato metà della sala è fatta di persone che hanno imparato più parole da una macchina che dalla madre ma per delle ragioni che andrebbero che queste sono l'argomento forse più decisivo non prendono parola forse perché non capiscono capiscono molto più di noi se una cosa ho imparato dal mio rapporto continuo direi con con gli studenti con la gente che va nei centri sociali è che questa generazione è molto più informata di come eravamo noi ovviamente ovviamente ma quella enorme quantità di sapere di informazione piuttosto di cui dispone è anche una condizione di 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 inagibilità del collettivo del senso dell'affettività quella che gli psichiatri chiamano depressione è semplicemente la percezione non dico la consapevolezza ma la percezione di una condizione nella quale la comunicazione non può più avere alcuna profondità la comunicazione è funzionale utile indispensabile economicamente scambiabile ma incapace di veicolare desiderio ora non drammatizziamo naturalmente a ciascuno di noi ciascuna delle persone che appartengono a questa generazione sa poi come cavarsela e sa come riistituire un mondo di significato di piacere eccetera eccetera ma la tendenza nella quale noi siamo entrati è una tendenza nella quale l'umano non riconosce più l'appartenenza affettiva all'umano la scomparsa della sessualità è Gene Twenge in un libro che è molto noto che si chiama Generazione Iperconnessa rende conto di quante ore abbiamo passato gli umani hanno passato di fronte ad uno schermo negli ultimi tre decenni ora il numero di ore si è moltiplicato per quattro per cinque è naturale che il tempo passato di fronte ad uno schermo è un tempo nel quale scambiamo moltissimi informazioni funzionali ma non viviamo la vibrazione singolare della presenza del corpo dell'altro è qua che finisce tutto è qua che finisce l'umano l'umano che noi abbiamo conosciuto ecco c'è un umano che si tratta ora di scoprire c'è un umano che possiamo scoprire a partire dal venir meno della affettività del senso e questa è la domanda alla quale nessuno di noi è in grado di rispondere o comunque certamente non sono in grado di rispondere io ma se c'è una possibilità di riattivare come chiede Antonello consapevolezza collettiva quella possibilità si fonda sull'abbandonare sul disertare ogni pretesa funzionale operativa freddamente economica dello scambio di segni di gesti e di carezze ecco il punto è questo siamo su un discrimine su un punto oltre il quale pare evidente spalancarsi un abisso forse possiamo dare significato e piacevolezza all'abisso ma solo a patto che la smettiamo di chiamarlo con tutte quelle parole che la modernità da Machiavelli in poi ci ha consegnato grazie grazie a tutti per la vostra partecipazione ringraziamo Franco Berardi buonasera augurandoci che ci siano momenti come dire in presenza che sono quelli che sono venuti meno in questi anni grazie 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 grazie